Allora, sono una donna, devo parlare di mestruazioni, ciclo mestruale, però non mi va di parlare di mestruazioni perché mi fa un po' schifo e soprattutto non mi va di parlarne perché vorrei essere incinta e non averle, vorrei essere piena di figli che escono da tutte le parti, qua, uno qua, uno qua, qui è già uscito, qui è pronto, vorrei farlo ora, ma non posso perché questo è il lavoro sbagliato per fare bambini, perché la donna stand up non fa l'amore dopo aver fatto stand up, ma solve, sono Giorgio Bafoni, uno stand up comedian medio, un uomo che parla della masturbazione, di sua madre, della masturbazione, sono stato molto bullizzato, sì, molto spesso, è per questo che faccio stand up, ma comunque dopo scopo. Veramente è così. È una situazione non piacevole perché io veramente vorrei figli, soprattutto perché sono sicura che saprei come trattare i figli, perché ho scoperto il loro segreto, ho scoperto perché i bambini piangono, allora il bambino ha la stessa visuale della telecamera interna del cellulare quando si apre per sbaglio, loro vedono gli adulti così, tutta la vita ci vedono così. Ma piangere, ma piangere, perché piangi? Bisogna alzare il bambino e fargli vedere il viso ben tirato, il volto alto, così non piangeranno più. Io continuo a sbagliare perché parlare di figli non è sexy, devo essere sexy. Allora, ciao, allora in realtà non voglio avere bambini, voglio solamente che i miei genitori non muoiano prima di aver conosciuto i nipoti. È la verità, ve lo giuro, è così, la verità è solo per questo, perché vorrei che i miei genitori, pare che i genitori non invecchino quando hanno i nipoti, smettano di lamentarsi, smettano di invecchiare, ritornino giovani, così mi hanno detto. E io in questo momento ho genitori un po' grandi che hanno bisogno di aiuto e li sto aiutando come posso, vado a fare la spesa, che è l'unica cosa che so fare. Quanto cazzo è pesante la spesa? Quanto cazzo è pesante l'acqua distillata? Perché è così pesante? Perché pesa come l'acqua, però pesa. Come fanno questi signore a portare tutto questo peso? Ho scoperto che hanno una grande soddisfazione. Andare a fare la spesa è come fare l'amore, anzi, andare al mercato è come fare l'amore. Perché? È di mattina, hai il tuo preferito, anzi, all'inizio sbagli, trovi uno che non ti tratta bene, poi invece trovi il tuo. A volte trovi la fila prima, sì, ma non importa. Però devi stare attenta che quando ripassi dal tuo vecchio, dal tuo ex fruttivendolo, devi abbassare lo sguardo, perché se lo guardi negli occhi, perché? Perché ti ricordi gli odori? Gli odori che ti lasciavano al sacchetto, tu neanche te ne accorgevi. Ti lasciavo con la mentuccia, ti lasciavo con la cipolla, che sapeva di mentuccia. Ti ricordi? Invece fare la spesa è come fare scopare. Perché un giorno COP, un altro giorno CONAD, carta fedeltà, è solo un nome, ok? Io è solo un bollino sul mio bel quadernino dove attacco i bollini. Per me non contate niente, io non guardo nessuno. Io voglio che il mio supermercato sia come una fila interminabile fino alla cassa. Non voglio guardare nessuno negli occhi, non voglio che nessuno mi guardi. Sono distrutta, però sto facendo e scome il sesso. Alla fine è tutto velocissimo. Perché? Perché in cassa, oh, la gente, oh, oh, devi muoverti. Perché? Perché già quando metto il mio posto, quel cazzetto in mezzo, la gente subito comincia a innervosirsi e volerti superare. Perché la gente affretta? Chi è il più veloce di loro? Sono io. Io ho già messo tutto nel carrello, sono già venuto. Sburra. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti